Una volta entrati nella chiesa a ridosso del monumento simbolo di Fano, l'Arco d'Augusto, i visitatori calpesteranno un tappeto, ma più che un tappeto sotto i loro piedi troveranno una vera e propria mappa con tutto il percorso della strada consolare che collegava l'antica Roma al mare Adriatico. Il museo della Via Flaminia dopo due anni e mezzo di lavoro è una realtà. Da oggi, in modo permanente e con dotazioni di altissima tecnologia, tutto quanto si conosce ed è stato raccolto sulla strada consolare e racchiuso negli spazi della ex chiesa di San Michele. Un museo concepito secondo le nuove concezioni museali che lo vedono come un luogo non più dove conservare ma per educare e diffondere conoscenza. Schermi touch d'altissima generazione, pannelli magnetici intercambiabili e realtà virtuale allargata consentiranno ai visitatori una vera e propria immersione nella strada e nei siti ad essa collegati che ne fecero uno degli assi di sviluppo principali dell'impero romano. Concentrato di tecnologie che servono a raccontare in un modo nuovo, diverso, più partecipativo, più didattico, più divulgativo, più emozionante questo grande patrimonio che è la Via Flaminia e la Fano romana. E quindi ecco le tecnologie, i multitouch, i video 3D, la realtà aumentata, la realtà virtuale, delle tecnologie che non si vedono come queste telecamere che analizzano il comportamento dei visitatori. Ripeto, per un modo nuovo di proporre, almeno nel nostro territorio, un approccio che sia sempre più personale, sempre più emozionale da un lato, ma anche scientifico dall'altro, a questo stupendo patrimonio. Ora la proposta culturale e storica della città a disposizione di viaggiatori e turisti si arricchisce di un tassello fondamentale che mette in diretto contatto con la radice storica della città della Fortuna e la sua epoca romana. Abbiamo sempre sostenuto che la nostra città va raccontata meglio, va fatta conoscere, questo è un altro elemento di vetrina, qui potranno entrare i bambini perché attrezzeremo anche dei giochi didattici, le scuole più grandi, ovviamente con i giochi interattivi, la realtà aumentata virtuale, però anche la tradizione perché con i pannelli visual touch che sono sostituibili, il racconto sarà sempre nuovo e sostituibile, quindi un museo dinamico che si arriccherà di contenuti video e non nel tempo. Era tempo che Fano attendeva un museo come questo, un museo che collocato in un luogo che migliore di quello dove è stato collocato non poteva esserci. Aiuta a conoscere, a scoprire quelle che sono le ricchezze di questo museo all'aperto che è appunto la Flaminia, con Fano che poi è protagonista e soprattutto i fanesi e coloro che verranno a visitare avranno la possibilità di avere anche una realtà aumentata e vedere come in realtà ai tempi della città romana il teatro erano, l'anfiteatro, la basilica eccetera, quindi veramente un momento importante di valorizzazione della città e che va ad arricchire l'offerta anche culturale e anche turistica della città.